Buongiorno. Good morning. Buongiorno. Sorry, one question. Mi dica, mi dica. Voi italiani mangiare bread, pane, pane, tutto? Sì, certo. Perché? Noi americani, noi americani mangiare solamente mollica, mollica, mollica. Soltanto la mollica. Corteccia, corteccia. Mettere tutto da una parte in un grande contenitore. Continator. Ricicliamo tutto. Riciclator. Facciamo croissant, brioche. Le vediamo voi qui in Italia. Non so cosa dirle. Senta, nel frattempo gli ho portato un po' di grissini se si vuole servire. Posso aver portato? Avrei portato grissini? Sì, certo. Noi americani non mangiare grissini. Scarto di grano turco. Mettere tutto da una parte in un grande contenitore. Grande contenitore. Continator. Ricicliamo tutto. Ricicletto. Facciamo grissini. Grissini. Sì. E li vediamo a voi qui in Italia. Qua. Tutti i vostri scarti li mandate da noi. American very Italian. Certo. Noi imbecilli, certamente. E senta, cosa vuole ordinare intanto? Ordino... One coffee. Un caffè. Un caffè. Cioè, prima di... Lei comincia dalla fine, dal caffè. Bene cominciare il pasto. Va bene il caffè. Normal. Normal. Sarà servito subito. Thank you. Hello? Hi Charles. Carlo. How are you? Io? Io bene. Io sì bene. Diciamo... Gli affari così, così. Una... La borsa c'è stato... Normale? No! Forte. Forte. Molto forte. Yeah. È un forte calo. Sì. È caduta. Quindi gli affari vanno così, così. Ed è per questo che non mi sento... Come ti posso dire... Gli affari non vanno tanto bene. Mi sento un po' come dire... Forte. Amaro. Molto amaro. Amarissimo. Amarissimo Charles. Ma per fortuna c'è anche il lato positivo in mia vita. Che mi fa sentire meglio eh Charles. Come ti posso dire... Sì. Sì Charles. Aiutami a trovare il termine giusto. Amaro. No... Risollevato. Risollevato. Ecco. Questo è il termine giusto. Eh... Grazie girlfriend. Mia ragazza... Quando sono con lei mi sento meglio eh. Come ti posso dire... Mi sento... Risollevato. No! Eccitatissimo! Eccitatissimo. Ma... Torniamo agli affari. I tuoi terreni a quanto li vendi? Oh... Un po' caro. No... Prima interessavano ma... No non interessano più. No 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 no... Non li voglio più. No. Ora tu tu prendi e tu te le vedi tutti. Excuse me Charles. Ora tu te le... Ora... Normale. Amaro. Forte. Risollevato. Eccitatissimo. Uffa. Si vede proprio che voi italiani essere inferiori a noi americani. Hola senda. Ma voi americani. Ma che vuole fate il sesso? Eh? Sì. Eh? Sì. Of course. Naturalmente. Certo. Sì. Eh? E il preservativo dopo il che vuole fate lo buttate via. Vuttato via. Eh? Eh. Noi... Noi italiani. Noi italiani. Tutti i preservativi usati. Si mettono tutti in un grande contenitore. Eh? Continetto. Continetto. Sì. Riciclator. Eh? Riciclator. Sì. Si fanno gomme da masticare e si vendono a voi americani. Riciclator. Grazie a tutti